Bravi, bravi! Raccontaci la gara e l'ultimo giro finale. Eh, allora, abbiamo gestito la gara, diciamo che per la prima metà ho limato, ho cercato di risparmiare più energia possibile, visto che non ero proprio in formissima. Verso metà gara ho provato i primi attacchi per testare la gamba, poi sono tornato a riposare in gruppo e il terzo e l'ultimo giro ho deciso che era quello del giro decisivo, ho aperto. Siamo andati via in quattro e poi di nuovo l'ultima aperta all'ultimo giro e la vittoria, insomma. Ti sei divertito? Ma sì, era un po' finito, un po' sofferente, però quando vinci è sempre bello, comunque è la prima vittoria, quindi direi di molto divertente. Anche perché ero venuto qua non con troppe aspettative, anche ieri una cena un po' così, ero molto tranquillo, non mi aspettavo molto, invece è andata bene, dai. Bravo, complimenti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti